Che c***o avete fatto fino alle tre? Siamo state a bere tutti insieme. Amore! Amore. Ti prego, ma secondo te poi ti tradivo prima di partire per le Maldive? Tu conosci molte coppie che dopo dieci anni di matrimonio non si hanno fatto un giro di giosta. Hai mogli e figli? Potresti essere fedele come tutti gli altri? Ma che vera? Se tu mi dicessi che mi hai tradita, io non me la prenderei. L'ho fatto per due ragioni. Mi piace la fregna. Sei una merda, Mauro. Questa è la seconda ragione. Io credo che questa cosa ci abbia fatto bene, no? Questa matassa di narcisismo. Il 90% delle donne presenti in questo ristorante. M*****o. Bravo. Guarda. Mi devi dire soprattutto una cosa, Lisa, ti prego. Dimmi che non ce l'aveva più grosso del mio, dimmelo. Wuh! Marta. Paglia. Marta. And. Grazie.